A chi l'ha visto sono venute a galla delle nuove rivelazioni che riguardano Denise Pipitone. Nel corso della trasmissione è stata rivelata la testimonianza in cui si parla del primo settembre di quello stesso anno e di come la piccola Denise si è stata avvistata all'interno dell'hotel dove lavorava la madre Anna Corona. Una signora di Roma ha raccontato alla procura di Marsala che nel 2004 era in vacanza in Sicilia a distanza proprio all'hotel Ruggero II. La donna avrebbe raccontato di essere scesa alla reception per chiedere degli asciugamani e si accorta subito di un certo nervosismo e di qualcuno che nervosamente chiedeva il perché aveva portato lì un'altra persona. Ad un certo punto, inavvertitamente, si aprì una porta da cui vide una bambina. Gli inquirenti stanno verificando la sua posizione mentre nel corso di ore 14 è stata rivelata anche un'altra testimonianza, quella di una donna di Mazzara del Vallo alla quale una figura nota alle indagini le avrebbe rivelato di una chat e della possibilità che la bimba sia stata uccisa. Sembra che la donna sia stata aggredita e picchiata da tre sconosciuti sotto casa dopo la sua addizione. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like di supporto.